... aspetta, ma qui il coach è rosso chi è il coach suo? E' Eugenio se ce l'hai tipe qua, e noi ti vediamo in giro ma che... se non ci parliamo... aspetta, aspetta dai, con la gira dai, con la gira dai, con la gira dai, i puntini vale vale vai con me stop mister incontro ando blu Fabio Blu grazie 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 grazie